che ne dici di tornare indietro dico di no Hendrix non lasceremo Singapore senza di lei sono entrati nel rifugio mi chiudo nella stanza d'emergenza avvio codice nero ehi dove cazzo hai finita hai sentito Taylor via radio Taylor vi ha contattati cosa vi ha detto che vi ha raccontato arrivano Kane l'abbiamo persa di nuovo no il motivo è un altro